E' vero che ci sono forti tagli da parte del Governo nazionale, ma questo non può essere una giustificazione per le cose che non vengono fatte. Queste le parole del consigliere comunale della Tua Fano Stefano Guzzi, che oggi è intervenuto sul bilancio di previsione approvato lunedì scorso. L'ex sindaco ha evidenziato che i tagli erano pesanti anche negli anni addietro e nonostante questo la sua amministrazione, a differenza di quella di Seri, ha sempre garantito i servizi necessari senza aumentare le tasse. Abbiamo lasciato all'attuale giunta precisato un bilancio tra i meno indebitati della Regione. Li invito a fare meno piagnistei e a mettere in campo delle cose vere, salvaguardando soprattutto alcuni settori, iniziando indubbiamente da quello del sociale. Ci sono tante emergenze crescenti in questa città purtroppo a causa della crisi. Io voglio sperare di non trovare nell'ambito dei servizi sociali un solo centesimo in meno rispetto a quello che avevamo provvisto noi l'anno scorso e speso l'anno scorso. Altri settori importanti che vanno salvaguardati sono quelli dell'istruzione, soprattutto scuole materne, asili nido, che non ci sia un aumento di tasse per le famiglie in questi settori. E altri settori importanti da salvaguardare come la Fondazione Teatro, che sono comunque eccellenze di questa città, ma la stessa Università Fano Teneo e anche tutto il settore del turismo, che può essere comunque un settore trainante per una potenziale ripresa economica in questo momento di difficoltà. Facile dirsi più difficile a farsi, ha proseguito Aguzzi, che raccomanda inoltre di non ampliare la tassa di soggiorno anche a chi viene in città per lavoro. A noi ha puntualizzato, ce l'avevano tanto criticata, eppure continuano a mantenerla. Un altro argomento su cui è intervenuto poi è l'affitto a canone concordato. Mentre si cerca di agevolare coloro che devono pagare un affitto ad avere dei risparmi, agevolando la tassazione, diciamo così, ai proprietari di casa, come noi avevamo fatto, la Giunta l'anno scorso ha aumentato l'imo sulle seconde case affittate a canone concordato da 0,4 a 0,7. Il consigliere comunale si augura inoltre che la Giunta decida sia di investire maggiori risorse nelle manutenzioni, sia di portare a compimento alcuni lavori, come quelli del secondo tratto degli interquartieri, del tratto di pista ciclabile e trave finile e della scuola di Cucurano Carrara. L'ex sindaco ha posto l'accento anche sulle multe che si intende aumentare per far cassa. I vigili che sono vocati esclusivamente a fare le multe non fanno bene il loro lavoro perché devono fare soprattutto prevenzione. È un'altra cosa che va censurata. Secondo Guzzi la soluzione per non aumentare la pressione fiscale sui cittadini è la fusione delle due aset. In un bilancio preventivo racconta erano previsti 4 milioni di risparmi in 5 anni e quindi 800 mila euro l'anno. Se l'avessero già fatta a quest'ora avrebbero evitato i tagli. Infatti, spiega, ogni società ha un fondo di accantonamento di un milione e mezzo di euro che è obbligatorio per far fronte ad eventuali emergenze con la fusione. Nel fondo sarebbe stato uno soltanto e di conseguenza la Giunta avrebbe avuto a disposizione un milione e mezzo di risparmi. Mi auspico, conclude, che provvedono a fare la fusione nel mese di giugno. Quelle centinaia di miliardi di euro che avrà di risparmio potranno essere riservate e indirizzate verso i servizi dei cittadini più essenziali come appunto quelli del sociale.